Ed eccoci di nuovo insieme, vi stiamo presentando il nuovo centro benessere di Villa dei Cedri Parco Termale del Garda, ma non solo, come abbiamo detto, un luogo fantastico nel quale trascorrere ore di relax e benessere, ma non solo, perché Villa dei Cedri vi propone anche dei servizi di medical fitness con una palestra attrezzata e dei professionisti al vostro servizio per la riabilitazione vera e propria, ma ce ne parla Anna-Lisa. Grazie Angela, sì, abbiamo appunto parlato del centro benessere, quindi degli aspetti un po' più, diciamo, legati all'aspetto rilassamento, rallentiamo i tempi, però quello che è bello e che noi siamo molto contenti di poter offrire da qualche anno all'interno del nostro parco è tutto il settore che noi abbiamo chiamato medical fitness, ma in realtà è un settore sanitario autorizzato dove conduciamo attività di fisioterapia e, come si dice, sia in acqua che non in acqua. Qui stiamo vedendo alcune immagini delle calciatrici del AGSM Calcio Femminile Verona, qui è Melania Gabbiadini che è tra l'altro nazionale di calcio e qui è il nostro staff con cui lavoriamo in collaborazione con il centro Bernstein di Verona. Questa è la Kuguli, altra nazionale della squadra greca e, insomma, qui stiamo lavorando proprio su un discorso di recupero fisico delle atlete che svolgiamo all'interno del centro sportivo riabilitativo di Villa dei Cedri. È un settore appunto protetto, un settore dove noi svolgiamo terapie dalla mattina alla sera, ma anche attività, come dice la parola medical fitness, di fitness, perché con l'aiuto degli esperti e del nostro staff abbiamo sviluppato dei protocolli particolari in cui cerchiamo di sfruttare e potenziare le proprietà terapeutiche dell'acqua con, anche qui, ripeto, quel discorso di innovazione e tradizione, con l'innovazione in campo riabilitativo essendo coadiuvati in questo settore dal nostro partner che è appunto il centro Bernstein di Verona che ci ha aiutato a sviluppare in questi anni dei protocolli specifici per il recupero non solo di sportivi, calciatori o calciatrici o giocatori di tennis che sono venuti e che hanno frequentato il parco, ma anche appunto dei pazienti o degli ospiti che vogliono lavorare sulla prevenzione oppure hanno avuto degli interventi operatori oppure dei problemi motori di un certo tipo e possono da noi svolgere terapie di vario tipo di cui adesso vediamo alcune immagini. Questa ad esempio è la palestra, qui appunto stiamo facendo vedere alcuni esercizi che qui sono diciamo già di stampo più fisico, fitness che riabilitativo ma lo stesso gli atleti o anche quelle persone che poi riescono diciamo a svolgere un tipo di percorso con noi sia anche curativo, poi possono proseguire con certi tipi di protocolli. Qui abbiamo delle vasche particolari ancora, anche la piscina contiene acqua termale è un continuo ricambio, è un'acqua che non viene filtrata ma entra e esce quindi nel giro di meno di 12 ore l'acqua è sempre rinnovata quindi mantiene le proprietà delle sue proprietà che ripeto è un'acqua termale minerale con bicarbonato, calcio e magnesio tra i principali minerali e una quantità non indifferente di silicio. Questo che stiamo vedendo nelle immagini è un aspetto molto importante questo è il dottor Pasetto che è direttore tecnico del nostro centro diciamo sportivo riabilitativo e qui stiamo svolgendo con queste attrezzature dei test isocinetici cioè test che misurano la capacità dei muscoli di reagire a fattori di stress e quindi vengono diciamo misurati adesso io non sono una tecnica però insomma in qualche modo mi sono occupata di queste cose da un po' di anni viene misurata appunto la capacità di reazione di un arto nei confronti di un altro e quindi magari di valutare anche di valutare appunto lo stato di reazione e di recupero motorio che il paziente sta proseguendo anche qui tutto per offrire quello che anche qui stiamo cercando di portare avanti è un concetto 360 gradi cioè l'acqua elemento naturale in un bel parco e soprattutto nel giardino perché anche la parte qui sanitaria ha un giardino, ha il verde e sfruttiamo, vedendo intorno c'è tutta una zona di relax e sfruttiamo tutto quello che è possibile sfruttare dal punto di vista della conoscenza scientifica ha quello diciamo più coadiuvante che può essere appunto dall'uso dell'acqua però un'acqua particolare ci tengo questo molto a sottolinearlo perché è un'acqua che viene definita alcalina cosa vuol dire? l'acqua alcalina è un'acqua basica che si contrappone all'acidità del corpo un corpo in malattia è un corpo acido immergenzosi o bevendo l'acqua alcalina perché è anche possibile tra l'altro berla si riequilibra l'acidità del corpo quindi succede che soprattutto gli sportivi o le persone che hanno bisogno di recupero fisico, motorio nel giro di breve tempo perché devono tornare al lavoro eccetera immergendosi nell'acqua potenziano l'effetto terapeutico perché è come se facessero una overdose di antinfiammatorio perché appunto nell'acqua questo è il beneficio che si ricava tra l'altro un corpo nell'acqua è meno pesante quindi tante terapie, tanti processi di recupero motorio partono proprio dall'acqua perché nell'acqua è più facile compiere certi movimenti se poi l'acqua è anche di per sé antinfiammatoria alcalina come appunto l'acqua di Villa dei Cedri questo facilita e aiuta moltissimo il recupero così i nostri esperti come vedi aiutano e seguono i pazienti nel loro processo c'è tutta quindi questa parte medica e appunto di riabilitazione nel caso in cui invece una persona volesse semplicemente frequentare la zona dedicata alla palestra per tenersi in forma e seguire magari un percorso più fitness grazie della domanda questo è proprio quello che noi vogliamo fare non bisogna ammalarsi o subire dei trauma per essere in forma e per essere diciamo avere proprio uno stato di benessere psicofisico soprattutto fisico quindi noi diamo anche la possibilità di fare dei programmi all'interno della palestra dove gli ospiti del parco o della zona oppure della piscina perché si può accedere anche solo alla zona appunto piscina nel nostro centro sportivo e riabilitativo possono fare dei protocolli più legati alla prevenzione e quindi al movimento e al diciamolo stare bene stare in forma e quindi non ha un aspetto di malattia ma invece ha un aspetto proprio di benessere e di ricerca che tra l'altro mi permetto di dire è un concetto che è molto presente nelle popolazioni nordiche ma anche ad esempio dagli ospiti della Russia che ad un certo livello cercano moltissimo questo mix cioè questo stare bene, questo wellness accompagnato anche dalla serietà professionale e dalla specializzazione in certi settori La vostra location sul lago di Garda a Colà di Lazziso oltretutto è molto favorevole quindi sicuramente ci saranno tantissimi turisti che vi visitano ogni anno oltre ai cittadini veronesi Sì, siamo molto contenti ovviamente questo è un patrimonio chiaro Verona, l'aeroporto e poi il lago di Garda diciamo il Colà di Lazziso che è uno dei paesi principali, primi tra cui si arriva da Verona sono una location fantastica un crocevia e noi ci sentiamo anche un po' un crocevia perché abbiamo tanti ospiti italiani di questo siamo molto contenti molto orgogliosi perché abbiamo mantenuto negli anni una forte componente di clientela italiana ma ci siamo anche internazionalizzati quindi soprattutto anche con questi servizi dal servizio sportivo medicale a quello invece più il centro benessere la spa e ad altre diciamo innovazioni che abbiamo portato in altri settori del parco attraverso questi servizi noi siamo riusciti veramente anche a livello internazionale ad offrire qualcosa che ci viene riconosciuto un valore aggiunto che secondo me è il valore aggiunto che in generale l'Italia dovrebbe offrire cioè un insieme tra la storia la natura la bellezza del nostro paese la bellezza e la tradizione la cultura e l'innovazione un po' questa è la storia concordo in pieno hai ragione ebbene grazie mille Annalisa per averci fatto scoprire e averci raccontato di questo gioiello del Garda e avete capito se avete bisogno sia a livello fisico di riabilitazione di riprendervi dopo un trauma potete dedicarvi potete anzi far riferimento alla medical fitness di Villa dei Cedri oppure potete passare delle fantastiche giornate o dei fine settimana in relax godendo del centro benessere e del parco termale grazie ancora Annalisa grazie a tutti voi per averci seguito numerosissimi se a casa torna domani con una nuova puntata rimanete sintonizzati su Telearena buon proseguimento a poco grazie a tutti